Oggi facciamo tappa a Vercelli per, anche qui, raccontare la nostra proposta di legge taglia business sugli immigrati. Non tutti lo sanno in Italia, ma chi si occupa, le cooperative rosse e altri soggetti privati che si occupano di accogliere gli immigrati, non devono rendicontare come spendono i soldi pubblici ricevuti. 4 miliardi di euro l'anno, senza nessuna fattura, scontrino, pezza d'appoggio. Soldi che escono dallo Stato e entrano nelle cooperative che lucrano sugli immigrati. Poi loro sarebbero buoni e noi cattivi. Noi chiediamo trasparenza, legalità e rispetto della legge e anche dei soldi degli italiani. Nel dettaglio, noi con questa proposta di legge prevediamo di inserire l'obbligo di rendicontare soldi pubblici ricevuti. C'è un business evidente dietro a tutto questo. Siamo sicuri che se chi ci lucra sopra potrà lucrarci meno o comunque dover dire come spendere soldi pubblici, fermeremo anche l'invasione che c'è in Italia.